Prof. Tosini, quali sono le previsioni del 2030 per l'acciaio? Le previsioni del 2030 ovviamente si basano su una visione del mondo a quella data. Come sarà il mondo nel 2030? Avremo un miliardo di abitanti in più sul pianeta, avremo una classe media, soprattutto nei paesi emergenti, molto più inconsistente dell'attuale. Avremo dei processi di inurbamento e quindi una domanda di infrastrutture molto elevata. Tutto questo avrà un'influenza positiva sulla domanda di acciaio. Ovviamente tutto questo avverrà prevalentemente nei paesi emergenti. Nei paesi sviluppati avremo se non una riduzione dei consumi, quantomeno una stabilizzazione dei consumi sui volumi attuali. Questo fa apparentemente prevedere che il consumo di acciaio nei prossimi 15 anni si concentrerà soprattutto nei paesi emergenti e questo ovviamente avrà un impatto molto rilevante sulla struttura della produzione attuale, cioè nel senso che la produzione si sposterà gradualmente verso i paesi emergenti, mentre invece rimarrà sostanzialmente stabile nei paesi sviluppati. Questo richiederà forti investimenti in siderurgia, soprattutto nei paesi in via di sviluppo, mentre invece nei paesi emergenti avremo un effetto più che altro di riqualificazione dell'industria siderurgica con uno spostamento dei consumi dai prodotti standardizzati, quindi a basso valore, verso i consumi ad alto valore. Ovviamente questo necessiterà una ristrutturazione dell'industria siderurgica nei paesi sviluppati. Perché? Perché se la domanda si concentrerà soprattutto su prodotti di qualità vuol dire che le capacità produttive che oggi abbiamo nei prodotti standardizzati dovranno essere ridotte, mentre invece dovranno essere implementate le capacità produttive verso i prodotti a maggior valore aggiunto. Tuttavia non sarà una sostituzione paritaria, in quanto che la domanda dei nuovi prodotti dal punto di vista quantitativo è molto meno consistente rispetto alla domanda di prodotti a basso valore. Questo richiederà dal punto di vista impiantistico una maggiore flessibilità degli impianti produttivi nei paesi sviluppati, nel senso che dovranno adeguarsi a volumi di produzione più limitati ma anche una domanda molto più fluttuante, mentre invece la domanda classica tradizionale di acciaio imperniata sui prodotti standardizzati che richiedono economia di scala si concentrerà sempre di più nei paesi emergenti. Un altro aspetto importante del 2030 è che i processi produttivi per quanto riguarda la produzione di acciaio cambieranno completamente. Cioè ci sarà uno spostamento della produzione soprattutto sui forni elettrici mentre invece la produzione ad alto forno, quindi a ciclo integrale, rimarrà sostanzialmente sui volumi attuali. Questo cosa comporterà? Comporterà dal punto di vista delle materie prime una maggiore necessità di rottame rispetto a minerale. Ora, come soddisfare la maggiore domanda di rottame? Beh, il ciclo di rottame ovviamente ha degli andamenti difficilmente modificabili cioè nel senso che la fornitura di rottame dipende dai consumi di acciaio di almeno 20 anni prima rispetto al momento in cui parte la produzione di acciaio da forno elettrico. Questo ci fa capire che praticamente da oggi fino a prossimi dieci anni, quindi fino al 2020 avremo dei grossi problemi nella fornitura di rottame. Quindi ci saranno delle tensioni sui prezzi pari praticamente a quelle che vediamo già oggi. Cioè se oggi andiamo a vedere l'andamento dei prezzi del rottame è molto più stabile rispetto a quello del minerale. Questo dipende appunto dal fatto che l'offerta è molto più rigida rispetto a quello del minerale. Quindi lo spostamento della produzione che avverrà soprattutto da parte dei paesi emergenti che andranno sempre di più sui forni elettrici, ma anche i processi di ristrutturazione nei paesi sviluppati che privilegeranno il forno elettrico rispetto all'autoforno, questo impatterà ovviamente sulla disponibilità di materia prima. Fortunatamente dal 2020 in poi il principale player mondiale alla produzione di acciaio che è la Cina avrà un ciclo del rottame tutto sommato favorevole. Mentre la Cina sarà importatore netto di rottame fino al 2022, da quella data in poi diventerà invece esportatore netto, questo contribuirà a calmerare i prezzi del rottame, mentre invece sul minerale tutto sommato siccome la produzione non aumenterà, l'unico problema sarà rimpiazzare le miniere esaurite con nuove miniere.